La Sardegna è una terra bellissima, misteriosa, una terra particolare, ricca di storia e ricca anche di persone che questa storia l'hanno saputa raccontare, raccontare cantando. Maria Carta è una delle più grandi cantanti che l'Italia abbia avuto, soprattutto nel genere folk. Ecco, noi raccontiamo la storia di Maria Carta.